Un weekend l'ennesimo ricco di soddisfazioni per i ballerini della SD Giudanza di Santo Stefano del Sole. La società di Giorgia Gubitoso e di Alberto Delia ha preso parte a due eventi. Il primo nazionale, che ha visto la partecipazione, dei due fuoriclasse e uno regionale, con i giovani allievi allenati dalla maestra Irpina e dal maestro Salernitano. In Calabria, nella splendida cornice del Pale Europa di Rende, nella Kermesse Calabria Dance Festival, Giorgia Gubitoso e Alberto Delia sono arrivati secondi su 12 coppie e si sono giudicati il passo per il prossimo fine settimana, per la Supercoppa in quel dirigione. Dopo la Calabria, tappa Romagnola per i due. In Calabria hanno portato le discipline standard. Dopo la bella e costruttiva esperienza, invece, di Olevano sul Tusciano, al palla circola per il Napoli Trophy, i giovani allievi della scuola di Danza Irpina sono stati protagonisti della seconda esperienza competitiva della loro stagione. Roberto Ferraro, Laura Matarazzo e Chiara Vistocco hanno gareggiato nella disciplina Mix Latin, piccolo gruppo, ballando samba, rumba, chacha e jive. Si sono giudicati il terzo posto finale. Gaia Paiaruli, invece, ha gareggiato nella disciplina solo, portando il samba, il chacha e il jab e si è posizionata sesta su 26 partecipanti.